alfabeto microsoft una domanda che si pongono in molti e alla quale mi è ritornata una curiosità infinita su come rispondere appunto dopo l'ultimo video del mio amico e collega youtube davide disidoro a proposito andate a scrivere al suo canale se siete dei value investors detto questo microsoft io l'ho sempre preferita google ma negli investimenti non si possono valutare le aziende solo sul fatto che ci piacciono un più o meno rispetto alle altre altrimenti si fa la fine dei polli popopo nelle mie considerazioni mi ha aiutato anche monish pabrai ed alcune sue dichiarazioni che sono l'argomento appunto di questo video ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aieff ed autore del libro da meno 35.000 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nel caso tu la voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole come sempre trovi il link sia per la versione cartacea che per quella kindle qui sotto nella descrizione del video per quelle tre o quattro persone che non sapessero chi è monish pabrai è un noto investitore il fondatore del pabrai funds una società appunto di gestione di investimenti le dichiarazioni di pabrai sull'investimento di microsoft e alfabet la società amata di google pensavo inizialmente dipendessero solo da ragionamenti di tipo finanziario e ci sono alcuni spunti da prendere da questo punto di vista come l'esempio la valutazione del prezzo utile il peer ratio il rapporto prezzo utile di microsoft è inferiore rispetto a quello di alfabeti che significa che un investitore sta pagando meno per ogni dollaro guadagnato da microsoft rispetto a quello che può aver guadagnato alfabet questo può rendere microsoft un'opzione più attraente per alcuni investitori o una diversificazione del business microsoft ha una presenza molto ampia in molti settori diversi come il software il cloud computing il gaming e l'hardware il che rende l'azienda meno dipendente da un singolo settore rispetto ad alfabet che si concentra principalmente sulle entrate pubblicitarie o per meglio dire la maggioranza delle revenue provengono da lì anche alfabet ha diversi business i dividendi microsoft ha un rendimento da dividendo più elevato rispetto al alfabet il che potrebbe rendere l'investimento in microsoft più allettante per gli investitori che cercano anche una fonte di cash flow a lungo termine a un dividendo che può essere considerato praticamente growth anche se attualmente è molto basso mentre alfabet per ora non lo ha e infatti per questo è molto più alto quello di microsoft ma a dirla tutta mi sbagliavo di grosso tutto arriva dal passato e da alcune considerazioni che mi portano a capire come persone come pabai o buffett ragionino sempre diversamente dalla massa da noi semplici investitori della domenica pabrai fa questa dichiarazione più o meno nel 2007 in un suo libro che si chiama di dandau investor dove dichiara più o meno questo è una domanda aperta quella su come la battaglia fra google all'epoca non si chiamava ancora alfabet contro microsoft andrà a finire con oltre 60.000 dipendenti all'epoca microsoft è ora purtroppo la burocrazia che ha sempre di fatto disprezzato ma se mi fosse data la sola proposta di scegliere fra le due aziende fra google e microsoft ai prezzi attuali quelli del 2007 è una decisione facilissima e sceglierei microsoft per tutta la vita è una battaglia fra un innovatore e un clonatore un copiatore i buoni copiatori sono un ottimo business l'innovazione è un salto nel vuoto ma la clonazione è sicura in realtà probai non usa l'espressione salto nel vuoto usa l'espressione crap shoot sparare e non salto nel vuoto mi sono comunque permesso di ripulire la sua affermazione e non so se poi abbia fatto questo investimento dal punto di vista personale ma se avesse preso questa scelta all'epoca appunto nel 2007 avrebbe avuto molta ma molta ragione alla data della registrazione di questo video 10 marzo 2023 la market cap di microsoft è di 1.87 trilioni di dollari mentre quella di alphabet è di poco al di sotto dell'1.2 trilioni di dollari la cosa mi ha lasciato un po basito se devo essere sincero in che senso un copiatore contro un innovatore credo che quello che pabra intende che microsoft nel tempo ha costantemente non investito in progetti nuovi altamente costosi ma ha preferito copiare quelle idee che andavano bene ha fatto questo copiando pari pari diventando leader oppure semplicemente copiando e rubando rosicchiando quote di mercato o magari dove non riusciva ad arrivarci in maniera personale acquistando determinate aziende che offrivano business innovativi e all'avanguardia ad esempio il gaming copiando un business che la sony aveva portato a livelli importanti anche se non era stata lei a crearlo con la playstation e facendone un business importantissimo anche per lei considerando che quasi il 10 per cento del fatturato di microsoft ad oggi proviene proprio dalla sezione gaming oppure il suo cloud computing fattura più di 26 miliardi di dollari a microsoft e contribuisce a quasi il 24 per cento del suo fatturato copiato spudolatamente da amazon e dal suo aws amazon web services ma questo non sono gli unici due esempi ce ne sono molteplici quello che microsoft fa secondo pabrai è di fare investire ad altre aziende in numerosi settori facendo in modo che siano gli altri a spendere risorse ricerca e denaro e poi quando vedi che un business può avere un rendimento che c'è un mercato pronto è molto importante semplicemente vi c'entra con tutta la potenza politica ed economica che una multinazionale come microsoft può avere a questo punto mi viene sicuramente in mente pensare che se il business del metaverso possa essere veramente predominante negli anni a venire nel prossimo futuro microsoft avrà fatto spendere enormi risorse a player tantissimi player che al momento stanno investendo fra il più importante ovviamente meta facendogli fare tutti gli eventuali passi da gigante epocale in materia per poi entrare in questo contesto se invece si rivelasse un flop microsoft non avrebbe speso un soldo o quasi al contrario alphabet crea nuove idee cerca nuovi spunti di business di migliorare tutto il sistema che ci circonda ma questo ovviamente ha un costo innovare inventare richiedono nuove risorse e risorse enormi soprattutto economiche ma non solo a volte si incontra il rischio che non ci sia sbocco alla ricerca e sviluppo che si è fatto in determinato settore oppure lo si reputava molto più remunerativo ma non lo è anche essendo un'azienda enorme bastano due o tre idee di fila che non vanno per l'inverso giusto per creare delle problematiche molto importanti in azienda microsoft la si può paragonare praticamente al compagno di banco copione che però è troppo furbo per copiare lettera per lettera e che invece sa come sviluppare la copiatura a parole sue è poco corretto ma molto efficiente penso che il maggior motivo per il quale microsoft si è entrato con l'intelligenza artificiale perché vuole rubare molte quote di mercato a google per quanto riguarda appunto i motori di ricerca non credo assolutamente che interessi a microsoft diventare il primo motore di ricerca con bing anche se ovviamente questo accada è meglio per loro ma vuole che diventi molto profittevole come dichiarato satia nadella amministratore delegato di microsoft al momento c'è tanto business nel campo dei motori di ricerca tutti accentrati in un unico player ma c'è lavoro per tutti ovviamente qui si riferisce a google per cui pub rai potrebbe avere ragione in questo lui riferisce microsoft perché essendo un'azienda che copia come si dice in inglese copycat e che copia business solo che ci sono già rilevati essere profittevoli e lo ha potuto capire a costo zero beh i quei futuri investimenti in quel determinato ambito saranno fatti con la cognizione di tutti gli errori di percorso fatti in passato dagli altri payer che ci hanno investito e tutte le metodologie che servono a ottimizzare l'attività ovviamente adesso dopo queste considerazioni non è che andrò a comprare microsoft adesso in questo momento a qualsiasi costo anche perché bisogna capire se al momento trada il suo fair price o se si può applicare un certo margine di sicurezza o se peggio risulta molto sopravvalutata una cosa è certa ho imparato una cosa nuova su come valutare un business con un occhio diverso pensando un po come dicono in inglese out of the box fuori dagli schemi comuni e per quale motivo molti dei grandi investitori sono così profittevoli inoltre è importante notare che ogni investitore ha le proprie preferenze e strategie di investimento e che ciò che funziona per pabrai potrebbe non funzionare per tutti gli investitori inoltre è ovvio dirlo che tutte le performance passate di una società non sono necessariamente lo specchio o indicatore affidabile delle sue performance nel futuro quindi qualsiasi investitore dovrebbe sempre condurre una propria analisi e ricerca prima di prendere una qualsiasi decisione di investimento non basate sulle parole di pabrai e nemmeno di me in questo video ma su analisi molto più approfondite fatte in maniera personale bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video oggi come non mai se il contenuto è stato di tuo credimento se hai visto il video lunedì sulla mia condizione economica attuale ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un bel pollice in su per l'alcolitmo di youtube ma anche per me più cresco e più ho possibilità di creare cash flow nuovo adesso che mi ritrovo senza lavoro che mi permetta di mantenermi mentre cerco di crearmi una nuova attività imprenditoriale oppure di cercarmi un nuovo lavoro lasciami un commento qui sotto dammi le tue pensioni in merito e poi se sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché ogni nuovo video ti vengano fictificato e tu non possa rischiare di perdertene nessuno bene anche per oggi è tutto e niente ti dico arrivederci a un prossimo video ciao a presto